Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo mini video di Fortnite, mini video che faccio oggi per aggiornarvi sulla Season 10 o forse dovrei dire Season X di Fortnite. Dico Season X perché è uscito ieri il primo teaser a sorpresa perché lo aspettavamo oggi forse era una sorta di teaser 0 o qualcosa di extra rispetto ai teaser ordinari ma vediamo che assolutamente con sorpresa di tutti in questa immagine abbiamo il vecchio magazzino muffito con propri tre magazzini e dietro questa X che sta a indicare ovviamente i numeri romani, il numero 10 quindi Season 10 ma la chiameranno Season 10 o Season X davvero per segnare una sorta di cambiamento nel passo e negli aggiornamenti di Fortnite questo lo verremo a scoprire tra pochi giorni perché la Season nuova uscirà giovedì, vale a dire giovedì 1 agosto intanto sono davanti a questo buco nero per ricollegarmi all'immagine che vi ho fatto appena vedere tra l'altro oggi, poco fa, è uscito il nuovo teaser che è forse ancora più interessante ma questo buco nero, così lo hanno definito un po' tutti, è in realtà la sfera del Nexus perché potrebbe essere un buco nero? Perché il buco nero, proprio scientificamente, non è un buco realmente è una sfera nera in cui tutta la luce, tutta la materia non riesce a scappare dall'orizzonte degli eventi e per questo non scappando neanche la luce appare come una palla nera ora, nell'immagine, nello sfondo se notate, ci sono delle strane linee che a me hanno ricordato molto la rappresentazione di un buco nero fatta nel film Interstellar in quel caso vediamo una rappresentazione del disco di accrescimento del buco nero fatta anche in maniera molto accurata perché si va tipo a creare una distorsione spazio-temporale cioè in realtà spaziale in questo caso, che permette di vedere questo strano effetto ottico del disco che si vede da più parti, non so spiegarvi bene perché è così ma l'immagine mi ricordava molto quello, quindi forse è una conferma alla teoria del buco nero che in qualche modo potrebbe esplodere magari riportando indietro nel tempo alcune zone della mappa di Fortnite come il magazzino, che in realtà è qua, e come molti dicono la palude e io spiero tantissimo al carcere che era più o meno in questa zona ed era probabilmente il mio luogo di spawn preferito ma perché dovrebbe succedere una cosa del genere? perché lo dice l'immagine innanzitutto i buchi neri hanno poi una peculiarità molto strana più ci si avvicinano a un buco nero tecnicamente e più il tempo risulta rallentato sembra strano ma è scienza, funziona davvero così tant'è che si dice che se un viaggiatore, come nel film di Interstellar tra l'altro viaggiasse incredibilmente vicino al buco nero quelle che magari sembrerebbero poche ore per lui sulla terra sarebbero svariati anni quindi il buco nero può agire sullo spazio-tempo ma non può tornare indietro nel tempo tecnicamente ma in Fortnite siamo nel campo della fantascienza quindi potrebbe avere un legame forse questo buco nero esplodendo riporterà la mappa in uno stato misto in realtà dove alcune zone torneranno quelle di una volta magari pimpate altre zone magari muteranno ulteriormente altre zone magari saranno nuove del tutto di sicuro la mappa non resterà così perché ha subito tracce di varie season ed è tutta quanto devastata quindi per forza di cose è arrivato il momento di cambiare qualcosina e cambiare questa volta davvero non come nella season 9 che ha aggiunto poco niente ma veniamo al secondo teaser motivo anche per cui ho scelto la skin il visitatore per fare questo video notate che sul suo braccio destro ha un simbolo nel teaser che è uscito oggi poco fa c'è lo stesso simbolo a sinistra quindi nel primo teaser la scritta che accompagnava l'immagine era guardati indietro guarda al passato questo teaser dice guarda in avanti guarda al futuro in qualche modo questo futuro è legato al visitatore negli scorsi video ho teorizzato come tutto fosse connesso nel mio video riassuntivo dell'intera storia di fortnite tutto partendo dal razzo portato cioè portato in realtà costruito si suppone lanciato dal visitatore che ha dato il via a una serie di eventi che ci porta in questo preciso istante nello spazio tempo quindi effettivamente abbiamo una conferma ufficiale che tutto è collegato a questo personaggio alla fine dei conti questo è molto interessante ma il teaser ha gettato un po' di scompiglio nelle nostre teste perché nell'immagine vediamo ancora una volta il tema del futuro accompagnato con la scritta guarda in avanti e questo perché vediamo quello che è palesemente un robot potrebbe essere una tecnologia derivata dalla creazione del robot che ha sconfitto il mostro tra l'altro distruggendo appunto questo bunker e quello che potrebbe sembrare un robot del post battaglia una skin io penso che non sia esattamente quello se guardate bene la zona della testa in questa immagine si nota una sorta di omino in piccolo e a me non sembra un robot mi sembra un mecha un nuovo veicolo probabilmente una sorta di esoscheletro proprio in senso larghissimo diciamo appunto di robot manovrabile un po' come quelli visti nel film di Avatar per intenderci dove magari il giocatore potrà entrare e utilizzare questo veicolo per andare in giro e per sparare a cose giocatori anzi per fare un esempio più accurato pensate ai mecha di Titanfall proprio esattamente quella è l'idea che ho in mente potrebbe essere una cosa del genere forse staremo a vedere nei prossimi giorni perché sicuramente usciranno altri teaser fino a giovedì dove uscirà la nuova stagione la mia sensazione è che questa season 10 o season X sia la somma di tutte le season passate quindi prenda elementi dalla season 1 alla season 9 aggiunga qualcos'altro e faccia un minestrone di tanti elementi di ciò che abbiamo visto in questi due anni di Fortnite è un bene è un male se davvero fosse così questo non lo so dire però lascio la palla a voi voglio sapere che cosa ne pensate nei commenti nei prossimi giorni seguirò i teaser ma al massimo li tratterò in un post community non ci farò video dedicati a meno di cose proprio eclatante e incredibili quindi ci vediamo direttamente giovedì con il nuovo post battaglia e la nuova stagione un saluto da Remplace ciao a tutti